Vai! Valeria Armada, tra tutti i quali aspetti, da quali settimane provengono i dati di segnalazione? Allora, gli ambiti maggiormente segnalati quest'anno risultano come per diversi anni, la valutazione è proposta, seguono le liste d'attesa, i problemi con la grazia di informazioni, che è un argomento trasversale negli ambiti, sicuramente l'assistenza territoriale e sicuramente dell'invalidità civile. E che quadro è meglio, quindi, dal saluto? Diciamo che il tema centrale di quest'anno è proprio il tema dei dati, sappiamo che sono stati praticati dei dati drastici, la spesa sanitaria e sociale, e pertanto la difficoltà d'accesso, la difficoltà ad ottenere le cure, di nuovo al centro dell'attenzione, proprio per la riduzione di questi servizi, le attese risultano ancora una volta, molto molto presenti, le difficoltà e le differenze regionali sicuramente la fanno ancora una volta da padrone.